Vi chiedo di conservare il coraggio e proprio in mezzo alle vostre angosce di conservare la gioia della speranza perché crediamo in un Dio che ripara tutte le ingiustizie, che consola tutte le pene e che sa ricompensare quanti mantengono la fiducia in Lui. È stato un abbraccio pieno di dolcezza quello che Papa Francesco ha riservato ai partecipanti a un pellegrinaggio di poveri giunto dalle diocesi francesi di Lione. A tutti il Pontefice ha ricordato che quanti sperimentano il rifiuto, l'esclusione e non contano per nessuno sono preziosi agli occhi di Gesù che per amore si è fatto uno di noi e altrettanto importanti per la Chiesa che deve partire dalla vita condivisa e non da teorie astratte. Vi chiedo anche di pregare per i colpevoli della vostra povertà perché si convertano. Pregare per tanti ricchi che vestono di porpora e di bisso e fanno festa con i grandi banchetti senza accorgersene che alla sua porta ci sono tanti lazzari bramosi di sfamarsi di lavarsi della sua Messa. Pregate anche per i sacerdoti, per i leviti che vedendo quell'uomo percosso e mezzo morto passano oltre, guardando dall'altra parte perché non hanno compassione. A tutte queste persone e anche sicuramente ad altre che sono legate male con la vostra povertà e con tanti dolori, sorridetegli dal cuore, desiderategli il bene e chiedete a Gesù che si convertano. Grazie a tutti.